La questione dello svincolo del quarto lotto della Teramo Mare finisce sul tavolo del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro che ha ricevuto in questi giorni la lettera dei cittadini residenti in via Molino da Capo preoccupati del fatto che lo sbocco dell'arteria attraversi proprio il piccolo nucleo urbano. Preoccupazioni di cui si è fatto carico il primo cittadino che comunque analizza gli aspetti legati a questo progetto anche sotto altri profili. La situazione è questa, intanto primo dato positivo, da quello che ci dicono ormai da qualche mese ci sono i fondi per realizzare il quarto lotto della Teramo Mare dopo che per anni abbiamo chiesto che questa arteria così importante per lo sviluppo turistico e anche della zona industriale di Giulianova venisse realizzato e portasse finalmente al completamento di questa arteria i fondi del Masterplan sono a disposizione. C'è poi l'altro aspetto positivo che è legato all'elaborazione dello studio di fattibilità che è stato realizzato dall'ANAS ma che di certo non rappresenta per ora una soluzione definitiva per quanto concerne lo svincolo. In questo studio di fattibilità si prevede uno degli svincoli in quella zona attenzionata dagli abitanti. Ora io ho già precisato che quello è un mero studio di fattibilità che dovrà essere attenzionato dai comuni sul cui territorio passa il tracciato e quello più attenzionato è quello di Giulianova che dovrà esprimere un parere che poi sarà il prodromo del progetto definitivo e esecutivo. Il sindaco ha già avviato una serie di contatti con i tecnici dell'ANAS e nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo che interesserà l'area industriale di Colleranesco e la zona urbana di via Molino da Capo. Verrà anche a breve convocata la commissione consigliare con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze politiche per studiare il tracciato arrivando a scegliere la migliore soluzione per quanto riguarda lo svincolo del quarto lotto.